Alla fine del video sulla battaglia di Caporetto ho nominato la mitragliatrice leggera MG08-15 usata dai tedeschi. Sapendo che pesava quasi 20 kg, forse l'aggettivo leggera può farci sorridere, ma poiché manteneva il rateo di 500 colpi al minuto e il tiro utile a 2 km della sua sorella maggiore MG08, che di chili ne pesava 65, beh capite bene come quest'arma potesse decidere le sorti di un'offensiva, visto che poteva essere trasportata abbastanza agevolmente e con il suo bipiede piazzata praticamente ovunque in pochissimo tempo. Ma forse non tutti sanno che i primi a dotare la propria fanteria di un'arma automatica portatile furono gli italiani, con la pistola mitragliatrice Villarpe Rosa Revelli. Questa era in pratica costituita da due mitragliatrici miniaturizzate e accoppiate, con in dotazione un bipiede o uno scudo metallico che doveva fungere da feritoia portatile nelle trincee. In realtà quest'arma presentava delle caratteristiche strutturali che ne invalidavano quasi completamente l'utilità tattica. Infatti il rateo di 1200 colpi al minuto per canna e i caricatori da 25 colpi costringevano in pratica i serventi a ricaricare l'arma ogni pochi secondi. E contando che in un minuto si riusciva a ricaricare circa 12 volte, ecco che il rateo reale scendeva a 600 colpi al minuto, 300 per canna. A ciò si aggiungeva il tiro utile di soli 100 metri, contro i due chilometri dell'MG08-15. Ora è evidente che dover continuamente ricaricare con il nemico a 100 metri rendesse praticamente inutile disporre di queste armi in combattimento, ma nonostante ciò le pistole mitragliatrici Villarpe Rosa Revelli costituirono una parte delle armi automatiche in tutti i battaglioni italiani che prevedevano al loro interno una sezione di mitragliatrici.